buonasera ovviamente ci sarà un piccolo check iniziale dell'audio perché un po che non scusate i tipi toc toc sul microfono mi tocca è un po che non faccio live quindi potrei fare un po di casino tra l'altro queste cuffie qua che non sono le solite audio vario quindi non mi sento allora la prima cosa che mi interessa sapere è se quando non parlo e anche quando parlo si sentono frusciti povento nel microfono perché ho un ventilatore qua sotto e vorrei evitare che soffri direttamente sul microfono quindi tutto ancora da regolare ok andiamo un po su discord buonasera crossettino dicevo poco fa mi serve un feedback sul sull'audio perché ho un ventilatore che potrebbe sparare aria direttamente sul sul microfono che è nuovo e non ho ancora fatto regolazioni a dovere adesso sto facendo un piccolo post purtroppo che cazzo sto scrivendo è ok ma si sente buono si sente pulito buongiorno sub zero cost buongiorno io non mi parli di non aver neanche no aspetta forse l'ho detto che sta succedendo stavo leggendo cose un po sul discord gatto babbo buonasera anche a lei non ti preoccupare pulito sì no perché io sono sono piuttosto psicopatico per l'audio e certo magari uno può dire eh sì però il tuo audio fa schifo di solito però eh ho un orecchio piuttosto sensibile a fruscie cagate di fondo mi sono visto una marea di video riguardo adesso sto pian piano cercando di sistemare purtroppo logisticamente la mia stanza e il mio sfondo non sono adatti per fare oggi che hanno tira si crepa quanti cazzo di gareggi sono qua tre ecco la tre ascellata 30 gradi e 8 in questa camera di merda no veramente si muore io spero che funzionino gli aerei perché eh avevo provato a a caricarli e qualcosina non me lo caricava ve l'ho scritto anche nella chat e erano alcune componenti che secondo me non servivano a niente onestamente però eh creava dei problemi vediamo se mi ricarica ah facciamo così andiamoli a prendere da c'è 27 gradi e sei anche fortunato secondo me 27 gradi non c'è nessun rumore di foto ok perfetto ma perché costatino io ti vedo con una specie di occhietto con una barra sopra se c'è il buon andri mi delucidi allora no le opere finite andiamo su opm ora madonna quanti sono vai su opm modo risconosciuto ecco tipo questo qua ha 12 inch vai jack 4 bla bla non so perché anche questo qua tipo interceptor carica mi dice che manca self sealing tank e module case secondo me è perché avete una versione più recente forse di BD Harmony ma non credo che facciano tanta differenza anche perché andiamo a caricarlo comunque lo carica e non vedo niente di che a meno che non avete aggiunto delle tank che io non vedo ma che in realtà ci sono ma non credo che vadano a pregiudicare più di tanto la la funzionalità della cosa avevo caricati questi mezzi non ricordo quali ho provato a farli volare mi mancava qualche modulo di BD Harmony per qualche motivo non funzionava ah si il physical range extender che penso di aver installato si per dire che si sta bene si effettivamente così sta succedendo ah ok allora proviamo a vedere io ho creato un po' di piloti suicidi di no flu ma sono molti no in realtà no no non sono sample guarda qua dove sono intanto qua io ho delle cose oscene che vabbè vengono da oddio vengono dall'episodio di di discovery questa è una madre questa è una bcd allora sono uno due sono quelli senza icon tre quattro eh scrolla scrolla cinque cinque sono cinque considerate che il piano di stasera è quello di farli combattere a squadra di due non due eri diversi due eri uguali contro altri due eri uguali quindi dello stesso modello e vedere come come se la cavano prima devo cercare di far funzionare le cose allora togliamo i i buoni buoni equipaggi e mettiamo quelli un po' più insignificanti per esempio in interceptor possiamo andiamo nel deserto per oggi questa è una meno roba da caricare cominciamo a caricare spero che funzioni tutti ragazzi io non non ho idea potrebbe non funzionare nulla allora sta cosa a microfono è comoda perché non hai cioè puoi gestire meglio la qualità per non essere emotivi ma cioè e puoi mettere questi però in questo momento mi sto tipo impiccando il mento sei un po' agitato ma dai no intanto fa tutto cominciano a sparare merda da tutte le parti probabilmente farò un casino al primo al primo coso allora visto che di carburante ne avete messo io direi di non mettere carburante a physical edge extender c'è c'è di non mettere carburante infinito allora qua cerchiamo di andare oh no ma madonna cerchiamo di andare ecco più o meno a metà una cosa del genere facciamo un piccolo test adesso 1v1 vediamo come come reagisce quindi questo mezzo non ho idea di chi sia chi cazzo è chi è chi è che è qualcuno riconosce il suo mezzo perché io non lo riconosco allora mac jab non vuole farsi spostare brutto pezzo di fagiano no no ok allora facciamo una cosa diciamo tattico chiudiamo oh merda vaffanculo ma certo è il tuo interceptor subzero a caso in realtà non ci sono preferenze alzale mai non ci sono preferenze anche perché è combattimento che parla quante cazzo di alettoni li hai messo allora questi alettoni qua se hai avuto problemi con l'endering questi alettoni questi non usiamo termini strani però comunque chiamiamoli alettoni ecco per adesso sono strambi hanno un effetto strano sull'aria quindi sono o troppo forti o tendono a farti fare del drift un po' strano non so perché ci siano questi cosi attaccati ma non credo proprio che che il sistema di 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 pilotaggio a i li vada a rilevare onestamente quindi i tasti rapidi sono relativamente inutili perché usa la i dobbiamo attivarli questo e attivarli il motore stai calmo adesso spawn vessel annulla dobbiamo fare choose crew perché si è passato lo stage perché vorrei evitare che fa partire razzi a caso e sputtana e questo è un test tutto nello stesso stage si vabbè fai allora tranquilli ah si questo è quello che ho caricato prima facciamo intersector contro intersector senza senza modifiche tutto uguale cariche ci mettiamo dentro un no valentina magari no di no few kerman select e lo schiaffeggiamo qua così grazie ok ora dobbiamo semplicemente ruotare e spantegarlo qua da qualche parte non è importantissimo che siano esattamente perpendicolari ma place vessel ora io devo ricordarvi come straminchia si faceva il tutto allora per park condition mettiamo anche qua il motore in una sola in uno solo stage ss attivo motore ora togliamo legion clearance check va bene ammo in limitati no ah ok qui ci può essere start competition ovviamente ci serve team a e un team b weapon moduli io non mi ricordo quali cazzo vieni a fare va bene ma questi sono quelle che già ci sono ok va bene va bene vediamo se decollano attenzione siete pronti si se partono insieme teoricamente va bene versus aspetta no no dov'è che ero guardato qua ah ok perfetto distanza 8 km quindi è parecchio vai oh partono attenzione abbiamo il decollo abbiamo il nostro Dinofu Kerman che va a mettere dentro i carri da solo vediamo se hanno problemi di handling physics range extender necessario se no non riesce a passare da un'area all'altro o perlomeno fai fatica waiting for teams to get in position quindi devono portarsi a 8 km di distanza con intercept ah è partita da sola attenzione uh missile è sparato io sento dei rumori strani non so se li sentite anche voi si è inchierato tutto che è successo ti hanno spantegato no bellissimo cioè ci sono una marea di rumori strani ok vabbè l'altro è stato spantegallato perfetto perfetto mamma che disagio guarda lì guardalo Dinofu Dinofu Kerman è stato disintegrato sentito i rumori strani ok non capivo se le mie cuffie erano andate oppure no allora il test ha funzionato non si è capito molto bene perché ha laggato a un certo punto ma va bene ah forse radar warning ok posso selezionare questi qua i control perfetto 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 allora facciamo una cosa torno al lancio quindi questo primo test con gli stessi mezzi che sono l'interceptor è stato effettuato adesso abbiamo capito che funzionano cominciamo a farli scannare tra di loro che questa è la parte più succulenta ho sentito i rumori tipo non capivo più cosa stava succedendo pensavo mi si fosse frizzato il computer se funziona tutto confermatemelo perché è importante allora questo qua è il signor Gillo Kerman ha laggato perché il modo in cui il mio lancio è flers è assurdo ah grazie e lo sapevi dai non creiamo dei mostri allora vessel mover adesso inizia veramente la competition ecco però infatti flers potrebbe essere un problema perché mi stava esplodendo il sistema quindi allora posizioniamolo forse devo posizionarlo un po' più vicino voilà allora questo è attivato attiva motore adesso facciamo spawn vessel e chi ci mettiamo contro? mettiamo subito un gabbiano andiamo a torne oggi quindi quelli che rimangono vengono utilizzati poi per la gara successiva ah dobbiamo spawnare adesso facciamo 1v1 vediamo come se la cavano oppure facciamo 2v2 non lo so potremmo fare anche un dv2v2 non è male facciamo 2v2 dai facciamo un altro interceptor carica mettiamo ah ma di no fu Kerman è ancora via ah sì perché effettivamente mettiamo elodie eliodi eliodi Kerman che invece di cantare stavolta urlerà non che con la reale canti davvero però va bene grazie adesso giriamolo così ci vorrebbe essere un tasto per girare direttamente ma dopo esce sul canale questo sì 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 poi al limite facciamo proprio un estratto niente di particolarmente complicato anche perché io l'otto parto il nove otto il nove nove però sarebbe nove mattina prestissimo quindi per una decina di giorni sicuro scusate stiamo colpi al micro che cazzo succede per una decina di giorni non credo proprio di mettermi a fare video o cose del genere adesso vediamo in questi che passano questi giorni che passano poi ci facciamo un'idea però sì finirà nel canale farò un sunto dei combattimenti così dopo potete vedere ma comunque rimane salvata anche la live su twitch quindi potete vederlo anche da lì allora team A team A ci siamo allora spawn vessel e mettiamoci contro proprio in ordine così gabbiano con il suo non ho letto il nome quoseno kerman come pilota lo piazziamo qua quoseno spero che vada decentemente ma in realtà allora l'endring fa ma fa sicuramente più del del pilotaggio perché se il tuo aereo è predisposto per fare delle manovre piuttosto veloci e viaggiare piuttosto veloce teoricamente dovrebbe sopportare meglio il combattimento allora qua non so perché avete messo ma ok ok questa è un'altra cosa vi attivo manualmente perché non ci vuole di ok ok poi magari non useranno mai la vulcan devi scappare gatto babbo va bene ci vediamo ci vediamo dopo allora perché non si riesce a cliccare la vulcan ok dovrebbe essere tutto a posto ma l'armor thickness ok non l'avete messa al massimo chiaramente perché se no poi diventa un po' un problema ok e questo lo mettiamo team ah beh team astro si è fatto anche il team gabbiano molto bene prima di partire chiedi di fare un'altra live non lo so vediamo vediamo come come va avanti poi potremmo mandare avanti questo contest per un'altra edizione se vi piace chiaramente e e proseguire perché ci può ci può stare no allora spawn vessel mettiamo un altro astrand e ci mettiamo stavolta cobezzo che è una femmina quanto pare e lo mettiamo qua la mettiamo qua ma io non posso usare i booster ma penso che sia relativamente utile cioè tanto comunque servono solo per decollare la AI non ha la lungimiranza di attivare i booster in un momento specifico quindi anche se le colli più velocemente poi alla fine devono comunque aspettare che sia la giusta distanza per il combattimento alla fine è una scelta che hai fatto tu ma non era fondamentale mettere un decollo più veloce o chissà che cosa cioè insomma come ti ho detto prima la AI ti fa decollare ti fa arrivare a distanza poi cominciano a sparare allora motori accesi questo è nel team bla bla ok perfetto ci siamo fatemi togliere vessel mover versus ci siamo interceptor ok questo teniamolo qua che magari possiamo usarlo per ho bisogno di booster per questioni invece more booster il problema dei booster è che non ti servono cioè decollerebbe a cannone ma non usa il potenziale il problema è che non è che tu li accendi solo una volta i booster capite sono solo i rocket booster già un po' fare un video su come fare un sottomarino questo è un video ma non ho la minima vedere come si faccia in realtà non lo so neanch'io c'è un trucchetto per il gabbiano gli ha anche piegato le ali ho visto il il lift point è piuttosto avanti effettivamente però gabbiano se tu hai messo una checklist per questo aereo del tipo queste si devono diciamo distendere cioè de-estendere quindi richiudere e diventare dritte io non lo so i mezzi devono essere cos'è sto pene che hai sotto sarà un radar jammer bisogna vedere poi se lo se lo se lo se lo utilizza eh la la ah fatemi adrizzare signorino qua perché non è proprio in linea perché non vuole poi che si schiantino tra di loro in fase di recollo si sa mai place ah tutti i motori accesi eh si si solo due no sono tutte accesi ok 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 ragazzi possiamo provare a fare questo questo lancio il problema è che poi ah c'era peace mode se faccio la peace mode sparano quando dico io o non lo so perché mi ricordo che c'era un'impostazione che loro ovviamente volano e è solo quando decidi tu cominciano a spararsi tra di loro ma non mi ricordo non so se devo modificare qualcosa anche per il discorso per il discorso Vulcan perché non sempre la usano e non ho capito bene come però iniziamo wow abbiamo la visuale di questa cockpit non toccatevi per favore oh mamma mia che rischio qualcuno è morto ma no me l'avete spiegare oh raga è morto beh i booster questo banco è riuscito a decolare forse perché si è schiantato contro l'altro forse ah stanno andando in posizione l'altro proprio si è stampato malissimo ci ha fatto una fine del cazzo dov'è l'amico qua ah è qua sopra guarda che bello che è il console di gabbiano sta facendo una cosa un po' strana non capisco cosa però che triste però è sempre vissuto ghillo mi sa che si è schiantato oddio guarda come si sta incazzando guarda guarda che sbarcola tutto scemo ma con il gabbiano l'auto installo ma si è ucciso guardali e niente ha vinto il gabbiano senza sparare un colpo no va bene torno al lancio ma che cazzo ne so io cosa stanno facendo sono impazziti cioè allora un interceptor ha deciso di uccidersi da qualche parte forse lo mette lì un po' più dritti perché sennò non decollano bene secondo me per questo e quindi i gabbiano ad un certo punto sono impazziti sono andati dritti si sono stallati uno è caduto e l'altro non so cosa sta facendo per il galleggiamento ti posso dire da quello che ho capito che può galleggiare che si è schiata nel serbatoio di minerali il segreto fa galleggiare una gezza è la velocità con cui tocca l'acqua che in genere non deve essere inferiore ai 10 minuti in seconda ma allora si ok ma avevo visto che partemi muovere questo perché mi sa che oggi sarà dura avevo visto che il c'era un trucchetto per far galleggere le cose ovvero tipo le le hangar bay quelle dove puoi posizionare la roba dove cioè insomma dove puoi stoccare la roba insomma quelle mi pare aprendole e chiudendole vediamo se così decollano dritto ecco così dovrebbe decollare dritto perché è impazzito prima ok vabbè place ma non so era impazzito completamente forse ci ho messo troppo in realtà per parare gli aerei quindi sarà impazzito per questo motivo facciamo un altro interceptor carichiamolo cosenno stavolta da questa parte facciamoli un po' di istanti che sennò si vanno a schiantare sti idioti pretendo di vincita eeeh e si sono scontrati ma cioè sti cazzi cioè dovrebbero volare dritti no? cioè in teoria facciamo un test di drittezza è così dritto quindi non ci sono cazzi da da giustificare ok allora mettiamoli così tac freno a mario motore attivo place vessel e ci siamo ora eeeh spawn mettiamo dentro l'astros vb01a competition di gabbiano ci mettiamo dentro un pilota di nofo stavolta dall'altra parte e lo piazziamo qua a parte è difficile posizionarli a quanto pare vedete mi leggetto se non no ti si legge magari non hai fatto 2v2 che ne sai vabbè ma sono cose che si scoprono più o po' allora adesso qua facciamo un test di anzi mettiamolo spostare un po' così quelli di gabbiano si sono toccati ma tipo malissimo cioè non si sono fatti niente però il rischio c'è stato e non poco allora qua dobbiamo sistemare un po' la situazione ok tendono a uscire dal centro quindi devo andare un po' più di qua capisco dove punta ma perché per me che la AI è stupida in un certo senso oddio e quindi va va dritta a caso oh raga tecnicamente dovrebbe andar bene non penso che ci sia chissà che di complicato tipo le ho provate mille volte ste cose qua ok attiva 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 è attiva team gabbiano place vessel 1v1 si poi se dovessero avere problemi facciamo 1v1 non cambia niente un altro astr chiberto e lo mettiamo qua ma perché c'è anche la possibilità che vadano fuori dal bordino sta pista è troppo piccola potremmo fare un combattimento un po' lo nord a sto punto però penso che ci potrebbero essere dei problemi di lag perché c'è tanto bianco e quando c'è bianco le schede video fanno un po' fatica e lì c'è tanto bianco io non capisco mai se si sono allineato o no ma così no facciamolo un po' più morbido ecco c'è tutto un problema di allineamento tac accendiamo speriamo che stavolta funzioni se 2v2 crea problemi facciamo 1v1 non c'è nessun problema in questo metterli sfasati si no infatti uno dovrebbe essere un po' più avanti uno è più indietro infatti questo è un po' più avanti e adesso questo lo sposto un po' più di qui così e lo ruotiamo place ci siamo SS attivato 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 ma non credo che sia fondamentale perché poi fanno il cazzo che vogliono start vedi che ha sterzato il bastardo allora questi si stanno avvicinando pericolosamente spero che decollino guarda che idioti ok siamo riusciti a decollare il sottomarino va erica quelle erica vanno benissimo allora abbiamo i nostri 00 non so come si chiamano non mi ricordo che stanno facendo cose strane tipo acrobazie un po' particolari a un certo punto dovrebbero fare una virata brutalissima per per il combattimento oh mamma non capisco stanno andando in stallo ragazzi io non sto facendo niente dove l'altro vai la oh inizia il combattimento cioè questo ha fatto un 360 praticamente così senza cazzi ah no qualche problema di oh ragazzi abbiamo bisogno di un missile termoguidato non so sparato da chi i mezzi di gabbiano si stanno suicidando però non ho missato un non vedo più niente è impazzito tutto è tutto nero oddio nessun bersaglio sonda c è tutto nero ragazzi non so cosa fare ah ecco il cielo non esiste più è tutto nero fantastico si si esploso Kerbin Kerbin è morto modificata l'AI no in realtà non non ho fatto niente il mio è compatibile con l'AI in che senso riguidarlo manualmente tu dici che non è raro che i miei razzi generino lag tipo che mi finisce la ram e magari tac allora facciamo così oddio move lo posizioniamo il problema è che se tu fai così lui va cioè quindi non riesci a avere un vero e proprio dritto è sempre un più o meno quindi non sai se si sta andando veramente dritto verso la pista da terra place questo lo mettiamo il team 1 spawniamo un svp con dentro cosenno e lo piazziamo qua un dettaglio fondamentale è il fine dell'esperienza allora giriamo questo cazzo se non riesci a finire la pista facciamo che mettiamo meno meno distanza per la competizione ok place andiamo su quali diciamo magari 5000 e start salta vediamolo da qua non so cosa sia gpt wow appena arrivano a 5 km cominciano a massacrarsi arrivato missile primo missile lanciato attenzione usa le controvisure gabbiano per schivare il missile che è proprio dietro uh basta ha preso al primo colpo però c'è ancora la cockpit è rimasto il drone ragazzi e niente il primo round l'ha vinto tranquillamente Interceptor con un solo missile non so che cazzo di missile tu li abbia tirato due missile hai lanciato perché uno ha preso poi la terra quando il mezzo era praticamente ormai distrutto diciamo che cambiando i flare non hanno funzionato molto e gillo kerman con l'interceptor è il primo vincitore di questo di questo combattimento possiamo mettere a sto punto dato che abbiamo già l'interceptor lo teniamo e passiamo al prossimo eventualmente poi potremo fare altre altre sfide per stabilire il secondo e il terzo ti cambi team stop guarded attivi la per attaccare in che senso allora facciamo così innanzitutto riavvia no non devo fare quello dopo puoi provare a fare stage con il mio in fase di decollo per attivare i booster ma l'ho lasciato non ho spostato lo stage non l'ha proprio utilizzato cioè dovrei attivarlo io con barra spazzatrice ma penso che poi impazzerebbe completamente da i lancia ho deciso nel deserto perché non ci sono ostacoli quindi per evitare schianti inutili mi son detto facciamo nel deserto che almeno abbiamo tutto lo spazio e poi è più più americaneggiante tra l'altro oggi cos'è il 6 ecco i suoni i suoni non funzionano non mi sa fammi controllare una cosa chiudiamo discord perché potrebbe farmi impazzire qualcosa suoni i suoni vediamo se funzionano però preme g prima di partire vedrai che cosa fa dopo vediamo allora suoni 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 non so perché non funziona è al massimo ah perché funziona no? io non li sento ah io ho capito perché non li sento perché ho le cuffie ho le cuffie diversi quindi adesso lui non sa con cosa farmele sentire aspettate io non lo sento molto bene vabbè ok può capitare può capitare ora devo stare un po' più indietro perché sennò in tutti i buoni nella telecamera dovremmo rimasti qua ok riprendi volo vessel mover è morto un po' più qua freno a mario quindi l'interceptor rimane perché è sopravvissuto comunque 5 km vanno bene almeno cominciò a combattere cioè se io premo subito G guarda che rimane nello stesso stadio non faccio niente place vado a mangiare fino a che ora è la live non lo so 10 10 e mezza una cosa del genere non so tanto oggi perché veramente fa caldissimo è già salita quasi di un grado la temperatura qua non tantissimo spawn vessel passiamo al eagle one con cosenno che vabbè è morto ma in realtà non è morto lo piazziamo qua ragazzi preparatevi perché io ho dei bei piani per youtube eventualmente di cioè twitch l'unica problematica di twitch è il caldo cioè a differenza di youtube che posso registrare l'audio tipo completamente in mutande con le le porte dell'armadio dietro aperte per una questione di acustica qua non lo posso fare cioè sarebbe imbarazzante e ci sono altre cose che vabbè in postumo può modificare un sacco di roba ma che motori cattivi adesso partono si schiantano tra di loro si esplodono tra di loro nel senso si danno fuoco allora questo sarà team B e questo team A se io vado su versus e gli dico GG guard mode non so che cazzo succederà ma lo facciamo lo stesso iniziamo la seconda competizione stavolta mettiamo 5000 come l'altro e e e via to per il tuo piacere non so cosa succede l'hai voluto tu io non volevo accendere i booster oh cazzo missile lanciato Eagle One si deve sbarazzare del missile intanto ne lancia un altro per comunque contraattaccare no ma P si fa da solo nel momento in cui fai oh cazzo cazzo gli è arrivata una raffica di quelle violentissime l'ha fatta a pezzi Interceptor Ghillo ancora supremazia stavolta anche con flare tipo frecce tricolore però stavolta monocolore per G il primo cedro di che senso devi per G no il motore l'avevo già acceso ho acceso questi booster perché voleva non mi ricordo di chi sub zero cost voleva accendere a tutti i costi serviti o no non si sa fatto sta che con solo i due missili e un paio di raffiche di Vulcan ha massacrato quell'altro si ma sono i booster si sono i booster sono i booster probabilmente è l'armamentario e le cose che hai messo dentro tipo qualche radar questo capo per esempio cos'è che c'è con le munizioni è una batteria guarda che che nascondiglio munizioni batteria tra l'altro ci sta dai onesto i flare quasi non li ha utilizzati comunque un singolo combattimento non basta come classifica perché stranamente stranamente c'è molto caos si poi lo vediamo tranquillo non ti preoccupare questa è la diciamo la schermaglia iniziale quindi rimane l'interceptor torniamo al lancio possiamo fare il round il round 2 cioè se tipo l'interceptor adesso vince tutto e comunque ne ha già 22 di combattimenti quanti sono 5 se ne vince 3 praticamente è già vincitore quindi poi si farà un secondo round dove l'interceptor viene escluso e si fanno combattere gli altri 4 tra di loro chi vince di quello viene escluso si faranno combattere gli altri 3 e poi così via fino a quando non si arriva praticamente almeno no in realtà ne basterebbe 3 su 5 devo rimanerne così poi li facciamo combattere magari anche tra di loro tutti contro tutti i 3 finalisti potrebbe essere un'idea poi datemi anche voi le vostre le vostre idee chiaramente allora spawniamo un altro veicolo l'Eagle 1 è stato arato poi magari non ha avuto modo di farsi vedere l'Interceptor c'è già manca l'XF01 questo possiamo eliminarlo perché tanto vuole a questo XF01 2 ci mettiamo dentro Elodie Kerman ho fatto a volte vince uno e a volte vince l'altro e non lo so secondo che cosa cioè la cosa viene stabilita in realtà allora l'agilità del mezzo e l'attrezzatura quindi l'equipaggiamento del mezzo fanno allora questo qua mi ricordo che ho dovuto fare delle modifiche alle ruote adesso non mi ricordo di chi è questo mezzo qua perché quando lo mettevi sulla pista e si impennava e stava detto così quindi non non poteva decollare non so come cazzo tu l'abbia provato ma non stava fermo cioè si capottava all'indietro andava in impennata non è Fast and Furious quindi Elodie esatto Elodie faccia a vedere faccia a vedere allora motori attiva attiva questo è rimasto sul su classico i Panther Flare o Shaffer adesso non mi ricordo si chiamano qua sotto solo due c'è l'altro dentro coi missili e una Gatling sotto a alla ruota praticamente se deve atterrare non puoi sparare nella realtà sarebbe così design particolare parcheggiamolo poi andrò a vedere anche design nel dettaglio ora che ci penso è una buona idea team A il XF bla bla team B quest'altro andiamo su versus facciamo G G P P vediamo come funziona così questo è il radar che il radar in realtà forse possiamo anche ah proprio si sparano così di violenza interceptor è cattivissimo ragazzi allora l'XF si sta comunque facendo un po' valere ma penso che prenderà una raffica in faccia a breve è durato parecchio adesso però è tipo a Mach 1 dovrebbe un po' rallentare perché sennò finisce malissimo per interceptor raffica ricolpi dell'interceptor verso l'XF1 primo ho sbagliato l'XF1 sta facendo fuori si è fatto scappellare brutalmente con si tu dici prima li fai volare poi li fai sparare poi vedremo comunque questa è ancora la fase iniziale allora quali i pezzi dell'XF1 si penso che cambi relativamente poco perché comunque è uguale per tutti e due cioè quindi decollano praticamente fanno le stesse cose la stessa ma guarda i pezzi dell'XF1 continuano a volare in perterti non gli frega un cazzo stavolta ho messo l'interceptor nella nel team B e comunque ce l'ha fatto ancora ragazzi tecnicamente è è vincitore praticamente è vincitore perché ne ha vinte 3 su 4 perché lui sarebbe il quinto e in questa prima manche l'interceptor è vincitore dai ok andiamo su anche a spazio plani così resettiamo tutto il casino che si è creato qua e vediamo adesso che cosa si può fare apriamo con il gabbiano vediamo se c'è qualche cosa da fare fammi vedere i gruppi d'azione che sicuramente li avrà messi cambia modalità counter measure vabbè questo è per armare i missili eccetera ok però io vorrei un tipo il tasto 9 per attivare e disattivare il motore così a me non devo cliccare una volta attiva e disattiva attiva e disattiva col tasto 9 ok salviamolo così e lo lanciamo sulla pista nel deserto anzi no facciamo sulla pista standard così ci godiamo anche un po' dello space center che dite comunque mi sorprendo che l'intercepto sul mio pc era al pari del mio e qui era tutti è colpa del è colpa del processore avevo scelto lo spazio per i motori avevo scelto lo spazio per i motori in che senso ah ok ok capito il roll ok allora facciamo così lanciamo questo intanto di gabbiano perché ho gabbiano visto anche che hai messo delle flap praticamente che sono fissi non so non ci ho fatto caso in volo se se vengono ritratti oppure rimangono così non so se hai fatto una questione di lift point o o che altro questi qua la donna come saltella allora adesso dobbiamo spostare questo questo è diciamo la rivincita di gabbiano più o meno il centro la pista questa mi pare che è un po' più lunga tra l'altro il centro della pista sono eh si sono praticamente queste tre lineette qua in mezzo lo parcheggiamo qua con il 9 accendiamo i motori freno amaro amaro e spawn facciamo un altro sas fortemente consigliato cambiano con g quando i tre ruote si ritraggono ah perché li hai assegnati ok perfetto 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 va bene va bene però bisogna vedere se effettivamente in kerbal l'aerodinamica cambia tanto da giustificare dei flop per l'atterraggio adesso ah ma tanto l'A12 non è stato minimamente considerato io voglio far notare questa cosa penso che sia vabbè a parte che non aveva senso perché l'altro aveva già vinto lo mettiamo adesso vediamo che cosa fa carichiamo questo Elodie che comunque in pertalita sopravvive a tutte le avversità cambia premio F12 e vedrai ah ah si ok che cazzo è questo ah è un mini Tomcat praticamente tu dici F12 per le cose aerodinamiche e ma non so quanto effettivamente sai che Kerbal è un po' strano a volte c'è delle aerodinamiche un po' assurde che però funzionano misteriosamente e altre volte invece che ti aspetti certe cose ma non funzionano quindi dici ma scusa ma se prima funzionava così adesso non funziona più così what the feck attivo motore attivo motore SAS LACE Team B B l'altro è Team Astred Astrendi versus andiamo a modificare qua diciamo la competition sempre a 5000 diciamo tutte e due P&P lì facciamo decollare carino da dietro è un po' corto ma è carino ok mamma mia mamma mia è appazzito io non lietto G eh vedi che tipo tende a stallare se stesso forse c'è e non so che cosa è troppo corto e quindi tende a fare il fidget spinner non so se mi spiego adesso l'altro è qua che cazzeggia però vedi che non fa questa rotazione sull'asse X non fa questa roba qua è come se ci fosse troppa aria sotto no quando lanci un sasso un ciotolo sull'acqua fa questo effetto con l'aria il tuo questo mi ricorda un po' un F16 visto è praticamente un Tomcat dai diciamo ho messo forse anche un Su quello russo una roba del genere allora siamo pronti gli Airy si stanno seguendo da un chilometro due chilometri però in questo momento non vorrei dare svantaggio a uno dei due perché questo è di spalle adesso vediamo se che bene non vuole fare i trick se proprio senza capisci che è molto ma no ma quello senza dubbio però lei non ama questa super manovrabilità ehi ma lei considera che non sai in anticipo che il tuo risponde velocemente quindi deve avere quel tempo di risposta che per quanto il computer sia più veloce di noi a reagire a volte reagisci troppo in fretta perché non ha la lungimiranza che abbiamo noi quindi non hai l'esperienza e quindi lui reagisce deve contro reagire e comincia a sbarcollare impazzire adesso ha preso un po' di confidenza a quanto pare si seguono a 8 chilometri faccio un test perché non so se si allontanano adesso ok sta andando in posizione adesso si precipita bestemmio si sta andallontanando per arrivare a 5 chilometri di distanza tra di loro cioè stavolta GPD che ci fa l'onore di provare il SVP l'SVP di Gabbiano questo mezzo Gabbians ha dei problemi di handling che non riesco ancora a comprendere starting perfetto comincerà a spararsi il mezzo di Gabbiano ha perso un po' di potenza a quanto pare dovrebbe attivare i post burner per riuscire a recuperare un po' di quei due missili che stanno arrivando incontro sparato da delle contromisure per deviarli per distrarli più che altro un altro missile in arrivo li è passato a un pelo da sotto raffica di colpi e niente presa la cabina di pilotaggio in pieno cabina del tutto mezzo non ha proprio neanche accennato a sparare io non capisco perché non ha proprio minimamente accennato ma dove cazzo sta andando tra l'altro oh Cristiano Ronaldo è ancora vivo attenzione c'è la svolta no non posso decelerare non posso far niente posso solo zerzare non ho controllo del mezzo cioè posso far non ho controllo dell'acceleratore non posso far niente togliamo l'autopilota vediamo se così posso no non posso non posso sparare non posso far niente di che posso solo farlo schiantare cioè forse posso sparare posso accelerare al massimo sì posso sparare così ma allora questo qua mi sta seguendo vediamo se riusciamo a fare una roba stupida ma assurdamente e praticamente è una gallina senza testa è un gabbiano senza testa andiamo lì dentro proprio siamo a 15 chilometri attiva l'armamento Arius ma dovrebbe essere già attivo in realtà no manager mi sa che ti hanno svinchiato con la cockpit caro mio non c'è più il manager per le armi quindi dobbiamo fare tutto manualmente mannaggia ma dove cazzo sta andando oh ci siamo ci siamo mica se riesco a prenderlo così sono Gesù Cristo praticamente non ho l'aggancio perché non ho il radar ho solo il jammer intanto quello si sta schiantando in teoria era già finito il combattimento perché ti ha staccato la testa quindi no vieni con me cioè lui è ancora lì eh cioè c'è ma si è schiantato perché è impazzito il sistema di guida dietro il computer va bene allora a livello di combattimento con il di gabbiano è stato sconfitto perché da quello che ho notato non ha sparato un colpo e non credo che sia una questione di cliccare non cliccare perché tutti non hanno sparato vero o male quello non ha sparato un colpo ho tolto per flexare che sai cosa assolutamente però sono qua dobbiamo provarli proviamo è schiantato perché beh sì non lo dico per competizione ma dovresti fare un combattimento più lo tanto tu eh sì tanto però l'unica cosa è che io non non so come come impostare l'auto target eccetera cioè è una cosa che proprio mi sfuga perché perché con lui ah perché ho iniziato con gbd vabbè già che ci siamo facciamo un piccolo test 9 modalità alternata con che tasto era giusto per sapere col 2 ok secondo me questi qua i verticali dovevi metterli più indietro secondo me tipo qua in piedi quindi non so toccano niente va a destra e a sinistra quindi bisogna capire qual è il problema forse eh negli attuatori bisogna togliere l'imbardata e anche qua perché tanto non non serve perché c'erano già questi qua vediamo lo stress perché il computer tende a fare questa cosa qua no vuole mandarlo in stallo praticamente per frenare andare su ma avendo probabilmente tante pinne dietro pinne per ma facciamo una cosa abbassiamo un po' questo mettiamolo normale gli togliamo il beccheggio alle ali l'imbardata l'imbardata è già tolto e li teniamo solo il rollio a lui li togliamo proprio lo snodo e anche lui ah si però non lo fa ok perfetto togliamo proprio lo snodo che rimane tanto su di punta e ho capito però la i appena punta sul muso si installa comincia a sterzare se stesso dobbiamo ridurre questo destra e sinistra se no continuerà a fare così di continuo come faceva prima vedi adesso lo sto facendo io di proposito vado a fare in modo che la i non abbia questo problema perchè la i è stupida per i appena cerco di puntare su cominci a spinnare c'è un problema di adesso sto facendo dei test allora facciamo una cosa devo verificare una roba perchè se non è corto si no stabilizza però tende a mandarlo installo capisci perchè per contropesare per controbilanciare raddrizzare perchè ti ferma quindi installa quindi installando non riesce a aprire le velocità per per il controllo vediamo una cosa così e vedi il centro di lift è proprio in mezzo non va bene poi mi direi no non è vero per niente non cambia nulla è steso ritratta non gli cambia nulla lui eeeh vediamo un attimo una cosa se io sposto questi qua tipo così giusto per provare voglio vedere una cosa eeeh queste così forse saranno un po' troppo quasi sicuramente saranno perchè noi scopriamo ok queste qua così si lo so lo so però il fatto che dai un po' di più di qua potrebbe aiutare vediamo eeeh togliamoli un po' di cl da questa parte e anche da questa parte perchè comunque 37.000 sono più che sufficienti qua li mettiamo magari giusto per precauzione un paio di pinnette che male non fanno e diciamo di togliere l'io in bardata solo beccheggio e li limitiamo a tipo un 4 gradi una roba del genere edit del male architettonico ok motori col 9 ok questo ha per caso qualcosa di in bardata ok perfetto ci siamo perchè queste pinne qua le procedural hanno intanto qualche problemino cioè le ali proprio procedural hanno qualche problemino con la gestione dell'aria dell'aria lanciamo ma lei non piace la mancanza di portanza soleale va in panico eh ma la i helicopter vedete le ruote di reazione anche le ruote di reazione possono essere ultime ma lo ridivi va ricaricare nel disco dopo 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 con caldo vediamo prima se vola perchè non è che non vola è che è troppo sensibile per la i capisci cosa come ti dicevo prima no tu lo sai che sta per fare quella cosa quindi già ti porti avanti la i no la i è scema non lo sa allora vediamo se in qualche modo può essere cambiato lascio le gimbal come erano dei motori perchè mi sa che forse è troppo largo vedi se spingi un po' troppo eh comincia a girare dovremmo forse insistere su questi sui verticali perchè quando fai così una una spinta controllata riesci ancora a gestirlo però essendo molto largo è come lanciare un cartoncino contro la venta va tipo sale subito vedi che fa così si va e poi tende a sterzare perchè non ha un aiuto sul verticale e disse io cerco di eh impazzisce perchè non riesce più a gestire perchè ha troppa aria sotto no togli il sas va va in vite proprio allora voglio fare una cosa un piccolo esperimento andiamo sulle ali qua e andiamo a prendere un paio di flappini stock qui forse sono un po' grossi ma così non va in vite eh tipo questi qua no questi non sono stock ma no questi sono quelli piccoli cazzo sono gli stessi e vediamo questi qua tipo li mettiamo così ma qua sopra tipo e li incliniamo anche un pelo verso l'interno vediamo se qualcosa cambia e diciamo di eh andare a lavorare solo sull'imbardata entrambi qui e diciamo invece di girarsi un po' più giù e controbilanciare questi due qua ok vediamo io avrei fatto le ali cioè questi magari più interni tolto questa parte qua che dà forse troppo lift e avrei fatto le ali un po' più corte perché effettivamente il mezzo è molto largo eh quindi per forza di cose si girerà poi è tutto da vedere eccoci è un po' troppo sono un po' troppe ruote di reazione effettivamente proviamo a toglierne un po' lasciamola così vai non sai quanti test ho fatto poi ho capito che il problema principale dell'originale era la I si il timone lo mandi troppo indietro entra in vite e ci resta fino alla fine non capisco perché e è troppo largo per la distanza che c'è tra il centro di massa e il lift point secondo me perché nella realtà sono vicini però capisci che la realtà ha le leggi le leggi ben differenti 9 cioè non fanno andare in vite devi obbligarlo ad andare in una direzione che è dritto vediamo se ti hanno su di forza vedi non va in vite non non lo vuole più fare adesso a meno no ti giuro non sto non sto facendo niente sono sono soddisfatto andiamo un po' di velocità ti sei perso sì con la far puoi provarla potrebbe essere un interessante spunto di di discussione allora ti sei perso una sconfitta per l'aero di gabbiano non fa più tessanta che prova a fare no io sto ti avvita un po' ovviamente perché siamo arrivati oltre i limiti però si stabilizza abbastanza in fretta e riesco e riesco anche a cabrare velocemente senza avvitarmi tende sempre ad avvitarsi perché c'è c'è troppo orizzontale e poco verticale quindi inevitabilmente lo farà l'ideale sarebbe allungarlo un po' e portare questi sul retro e anche questi un po' più sul retro per compensare questa larghezza l'ala secondo me dovresti fare delle aree un po' più corte un po' più a delta e meno esterne no vabbè non ti devi fare tante paranoie oddio vediamo se riusciamo ad atterrare e così fa un po' fatica perché è quasi in stallo vedi tende a fare sempre quel rotellino no? e mi ha tolto anche un po' di ruote di relazioni quindi anche questo può sicuramente influire la dominazione tutti fondamentali e sì Sub-Zero ha cercato un mezzo che per qualche motivo lo sco conosce solo lui spara prima degli altri e vince cioè e comunque i suoi missili vanno a segno probabilmente ha messo ha messo qualche modulo che funziona meglio di altri e il mezzo ha buona dinamica che va d'accordo con l'AE di BD Harmony vedi che appena punto su che non ha abbastanza velocità tende a girarsi anche adesso vuole farlo lo sento ah sapevo l'avevi persa un'ala ok in qualche modo abbiamo atterrato dovremmo rimasti Matthew il tuo come si chiamava Matthew era l'XF qualcosa forse ha preso schiaffi è durato un po' di più degli altri lo devo ammettere se era il tuo eh è l'SS che picchietta non lo vedo che è tagliato ma sicuramente che è l'SS tagliato in che senso giù in basso a sinistra perché si taglia ma in che senso è tagliato scusa cosa che intendi sullo schermo non si vede l'SS ah la live non è centrata oh scusate il cazzo ditemelo datemi un attimo trasforma adatta scusatemi scusatemi non lo vedevo ok solo ora XF è quello di Carlo Grass Carlo Grass XF è durato un po' un po' di più poi ha preso un missile nel culo quindi con i Matthew legal legal allora facciamo così allora Gabbiano ha qualche problema con hai messo un po' di contromisure e i missili non volevano andare cioè a quanto fa non riusciva a puntare chissà perché forse perché c'è queste cose ma queste per il terreno boh non lo so vabbè vedremo weapon manager AI pilot dov'è ce l'hai e da qualche parte è questo qua ah si ok perfetto se no non avrebbe potuto volare con i Matthew e l'Igo esatto bella troppo e non riesco ad agganciare balla troppo e non riesco ad agganciare eh sì infatti dobbiamo far funzionare questo coso perché è un peccato scientificamente non è brutto mi piace anche e che c'è qualcosa che non va con quella dinamica secondo me è troppo largo facciamo un tentativo guarda fammi fare questa cosa tanto questo è edit del male prendiamo questi li mettiamo qua anzi semplicemente li spostiamo qui indietro questo lo facciamo così questo adesso si sballerà tutto quanto vabbè bisogna fare una cosa di questo tipo anche se non è il top possiamo un pelo dietro a parte che è sopra quindi potrebbe essere anche questo un problema mettiamolo sotto un pelo sotto così ok e vediamo se ci dà una mano effettivamente dovrebbe essere un po' più lungo ma vediamo ma facciamo un piccolo check della dinamica si è spostato tutto avanti per qualche grosso motivo dobbiamo spostarlo indietro questa è una importanza non si sposta neanche a morire incredibile questi li spostiamo qua così quegli altri rimangono da questa parte sono queste ali che spostano tanto il leap point ok si infatti allora così ha troppa roba dietro lo so lo so benissimo ma comunque precauzionamente rilasciamo questa roba qua davanti giusto per dare un po' più di superficie di salivamento di lato cioè di di fronte e questo che non mi piace tanto perché secondo me va a creare dei problemi facciamo così questo lo spostiamo un po' di qui anche se non è proprio realistico ma potte cazzi questo lo togliamo questo lo mettiamo qua ok adesso dobbiamo risistemare questa roba qui mission failed we'll get them next time e che chezzo locale conosci man eater ho già sentito non mi ricordo bene dove ma l'ho già sentito illuminami perché ho già sentito ma non proprio non l'ho già sentito va bene un triangolino mi serve ok questo potrebbe andare bene troppo no però 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 penso che non sia necessario ora che ci penso sa che non è necessario forse c'è troppo peso indietro dobbiamo spostare spostare il rail spostiamo questi qua no che parla di cliccare fuori ogni volta questo non è niente di architettonico quindi non venitemi a dire architetto architetto no no questo è proprio non so a caso per vedere come si comporta ora tutto il lift point è davanti ma mi sa che si sono baggati no invece proprio è andato a fancuno dobbiamo spostare un po' di peso dall'altra parte che prima era tutto praticamente del ah qua c'è delle delle ali con dentro ok qui possiamo togliere un po' di ma perché scusa io ho spostato praticamente tutte le ali dietro perché c'è tutto il lift point davanti ah ok perché è l'accento di massa che sputtana vedi che si sputtana ancora no architetto 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 ciao mi saluti mi saluti mamma mia togliamo togliamoli un po' di lunghezza qua e andiamo a sistemare un po' così ok non so perché forse sembrano quasi fare drag questi cosi non so per quale motivo chiedete 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 ciao mi saluti e mi saluti andri dai tanto non sento il tts non so perché oggi non funziona gioco da sei uno squalo e sbrani roba e lo sto giocando due giorni main eater ho perso tutto in teoria voi dovesse sentirlo sì non so perché ma da me non si sente allora sistemiamo questo questo aereo che si avvita per qualche motivo e ho qualche problemi non con le ali che non so perché non creano lift dietro è stupida come cosa molto stupida non si sposta il lift sul posteriore anche a mettere una marea di roba dietro non cambia nulla anzi ballo opposto beh questo è ovvio perché mi tolgo un po' di superficie magari qua devo fare qualcosa no non cambia cazzo niente di niente questo se lo accorcio un attimo magari no cambia niente proprio frega cazzo a lui c'è qualcosa che che lifta qua sotto e non capisco che cos'è come sta andando andiamo all'erection wheel io per il mio messo lo messo su pilota per renderlo volabile ok ma infatti i reaction wheel hanno due problemi questa cosa qua quanto pesa un cazzo praticamente possiamo metterlo anche un po' più avanti è letteralmente un pene però vabbè lo mettiamo qua il cl possiamo aggiungere un pochino giusto per dargli quanto pesa 23 allora quello che ho tolto di là potrei metterlo qua ma aumenterebbe il peso senza motivo 40 cos'è che c'è che pesa così tanto cos'è sta roba qua cos'è in light in light red home non lo so non so cosa sia ma è dubbio sposto un po' più indietro no più avanti queste le spostiamo avanti un pelo questa la chiudiamo non ha peso davanti però eh mettiamoli no questa c'era già se ritolgo un po' di carburante qui ha comunque tanta 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 roba davanti non so perché non si vuole fizzare così si avvita sicuro ma sicuro come l'oro mettiamoli un po' di ali su ah ok è un altro problema si erano bagate queste lettere che non fanno così tanto ok vediamo se così cambia qualcosa adesso possiamo sistemare un po' le ali ok non troppo perché potrebbero poi creare problemi ok vediamo lanciamolo no forse c'erano dei missili incastrati dichiaro interceptor interceptor non lo so non mi ricordo ah il sub zero cost cos'è ma sarò stupido ma quando faccio il sesto io non guardo mai la prima build il centro di massa la drammicità eccetera me la cavo eeeh la maggiorate delle volte la maggior parte delle volte beh si ma dopo che impari a farne uno per mare sono sempre tutti uguali allora 9 non deve avvitarsi perché non va su fai su fai su ok ci mette un po' a salire forse oh cristo ho sbagliato qualcosa mi sa che ho invertito una roba qua si schianta eeeh si 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 ho sbagliato qualcosa aspetta che ci hai impallato una roba ma scusa ma scusa non ha senso non ha senso non ho cazzo di senso vabbè ok punta giù invece di puntare su è assurdo va bene ok andiamo a sistemare ancora questa roba qua non so che cazzo fargli ancora sto coso non vuole saperne se io sposto un po' tutta la baracca qua un po' più avanti e questo un pochino più avanti non troppo siamo un po' più simili alla forma originale lanciamo ragazzi avete animali domestici eeeh no avevo animali domestici avevo tre cani tipo un centinaio di pesci pappagallo due canarini che un po' mi fanno pena gli animali inchiusi in casa soprattutto i penduti cioè chiudere in una gabbia è veramente è una cattiveria cioè è insensato io non ho modificato niente adesso per qualche motivo puntava giù non c'è la beccheggio grazie vedi appena togli le ruote cristiana ah ok no forse perché c'era questa perché punta giù lo stronzo punta giù eppure ce l'ha davanti la roba vabbè la vita non credo che la faccia adesso ah Houston abbiamo un problema ah perché erano estese vaffanculo va ecco perché si inchiodava comunque oddio oddio eh no perché erano su esteso e quindi andavano solo giù i motori si hanno queste queste graffette che che vi imballano vediamo un po' di di stressarlo un attimo se se va a fare la vite oppure no mandiamolo quasi installo fixato ha cambiato molto la forma quello è vero tvr1 no dai non so quant'è tvr boh eeeh dov'è che era c'era qualcosa che dice boh le impostazioni le informazioni dell'affare ma che cazzo succede qua ok siamo installo vediamo se punta il muso siamo a posto punta il muso ecco questa è una cosa che io usavo per testare gli aerei soprattutto quelli che devono rientrare in atmosfera se lo lasci installo e va giù di muso sei a posto e se in più mentre va giù di muso riesci a tirarlo su senza distruggerlo sei ancora più a posto siamo in aria eeeh dry ok dobbiamo farlo atterrare no il tvr non so dove lo posso vedere adesso perchè in teoria ci vorrebbe essere vessel info ma eeeh non lo vedo non lo vedo oh tiriamoci su prima di schiantarci ok sembra un po' più morbido come come andry non perchè io cosa ma semplicemente perchè ha cambiato drasticamente la forma quindi magari adesso la digerisci un po' di più bisogna vedere con l'autopilot se se fa quello che deve fare tipo immaginiamo di essere autopilot no stiamo salendo facciamo un'impennata brusca cioè non non flippa capito non va in vita adesso sto facendo di proposto l'imbardata ma non non lo fa non si avvita quindi questa è una buona cosa possiamo dare una seconda possibilità sotto lo stage sotto lo stage che cazzo dov'è boh gli RFN non hanno più grip al contrario teoricamente si però non ho mai capito se Kerbal lo capisce o no questo questo concetto o se si limita semplicemente a dire aperto chiuso freno non freno questo ancora non non ve lo so dire oh merda ah è vero che quando apri il carrello si si smutandono anche le alette no 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 Frena, 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 frena. Dopo in Kerbal quando freni troppo velocemente si gira subito in mezzo. Non ho mai capito anche questa cosa qua. Vedi, freni, comincia a sterzare. Anche con l'SS è staccato. Vabbè, però è stato anche un dischietto a terraggio, nonostante tutto. Ok, forse, forse, adesso può combattere. Forse. Dobbiamo disattivare sta cosa delle flop che se no impazzisce. E mentre decolla rischia di capottarsi. Anche spazio i plani. Questo apparentemente sarebbe il secondo route. Praticamente questa, la prima fase della challenge l'ha vinta. L'ha vinta sub-zero. Architetto del male salvato. Ok. Ah, dobbiamo disattivare questa cosa. Quindi. Ritratta, ok. Togliamolo dal G. Ok. I razzi dovrebbero, dico, dovrebbero funzionare. Ok, adesso lanciamolo sulla pista. Ma l'hai visto il video che carichai nel disco? C'è che lo senti? Che cosa? No, io non sento i suoni. Per qualche motivo non sento i suoni. Secondo me è perché ho cambiato qualcosa. Ho cambiato. Cioè, sento i rumori strani nelle orecchie. Quello che il mio aero faceva è... Ah, ok. Adesso vediamo, vediamo. Allora, come contro il mio? Sanzio. Con il boost, ovviamente. No, senza boost. Inziamo una cosa alla volta. Cioè, facciamo una cosa alla volta. Move. Spostiamo il vessel più o meno al centro. Che sono... Ok, qua esattamente davanti alla cosa. Place. Assicuriamoci che sia attivato... Eh, infatti il package l'ha disattivato. Curbacchione, vecchio volpone. Questo ok. Perfetto. T. 9. Spawn. Facciamoli fare un test contro l'interceptor. Che ormai ha... E lo dico come... Faccina che sbava, faccina che sbava, faccina. Contrariata, faccina che bacia. Non sento il TTS. Non li sento, sento un cazzo. Non sento. Devo regolare alcune cose. Purtroppo ogni volta che cambi qualcosa, cambi le cuffie, impazzisce tutto... Tutto BS. Anche... Volevo mettere la musica? Non la sentivo. La teote la sentivo, adesso non la sento più. Place. Attiva motore. SAS. Team A. Interceptor. Team. Astro. Nd. Diciamo che... La facciamo come... Lo standard. Start competition. E vediamo. Se hai imparato a fare il docking con il pad. Ma no! Mi ha preso le luci! Mi ha preso le luci. Perché non si è tirato su? Scusa, io sono decollato in un attimo. Perché non lo fa più? Pronostico! Aspetta un attimo. Fammelo sistemare perché non sembra funzionare molto bene. Ti aspetto. No, Gabiano, devo aver sbagliato qualcosa... Nell'impostazione delle ali. Perché non ha... Non ha un motivo per non decollare. Forse... Ah, sì, forse riserva un po' più di pista. Effettivamente è molto cicciotto. Allora. Queste... Eh, infatti queste non erano regolate. Infatti, che ti dicevo. Queste qua... Beccheggio. Lo mettiamo. Ora sono regolate. Imbardata. E dovremmo essere a posto, no? Mettiamo il motore. Ok. Dovremmo avere tutto quanto sotto controllo. Il T. Spawn. Interceptor. Momento storico. E lo D. Mettiamo qua. Spero che ribassi la pista. Che se non ribassa la pista sti gazzi. Dobbiamo farlo partire prima dell'altri. Dell'altri. Praticamente, ripeti, per tre volte il dogfight oppure buono la prima che vince, vince. È una domanda? No, adesso allora, il primo l'ha vinto a mani basse COS, sub-zero. Perché chiaramente, oh, non ha preso un missile in faccia. A parte, vabbè, quando sono decolati in copia che si sono stampati tra di loro, ma quello è la problematica mia, non del mezzo. Attiva motore. Poi, chiaramente, ne potremmo fare altre di queste cose. Voi create i vostri mezzi, li ricaricate, poi si metteranno insieme. Dobbiamo sperare che questo mezzo adesso decolli, perché... Andiamo qua. Tac. Ah, lui sembra pronto. Sembra. Adesso queste le ho sistemate, dovrebbe decollare decentemente. Andiamo sulle impostazioni. Ancora, perché non mi salva le cose, Cristo? Ah, perché riavvio ogni volta. Start. Ti prego, decolla. Tira, tira su. Tira su! Eh, ma l'ora è rincoglionito. Ma gli portacci sua. Vi serve più pista, forse. Incredibile. 1v1, buona la prima. Aspetta, eh... Proprio l'integuatore con il gamepad. No, dai. L'ave sulla TV. Trovata famiglia. E ci siamo spianciati, venne l'aereo che si spianciava sul... No, dai. Povero aereo. No, in realtà, non capisco per quale stupido motivo... Adesso userò termini un po' più... Family friendly. Quale stupido motivo non vuole decollare decentemente. Allora, io sono parlando a fondo della pista... A metà pista... A metà pista... Prima era decollato. Ma l'aspetta. Cioè, vedi... Non è che non lo sto inventando io. C'è qualcosa con la I che non funziona. Perché è il parametro stages della I? Spanciati per due. Oh mamma. Sta degenerando questa cosa in modo molto drammatico. Drammatico. Allora, facciamo così. Beccheggio... Oh! Io non sto facendo niente di che. 30 gradi. Lasciamo anche questo. Questo lo portiamo come era prima. Imbardata rolli o no. Beccheggio sì. Oh! Funzionava tutto. Facciamo che... Eh... Lo portiamo un po' più avanti. Diamo un aiutino per il decollo. E vediamo cosa fa... Ah, I. Demenza artificiale. Perché a quanto poi non riesci a far decollare in aereo. Che io faccio decollare in un secondo. Non so quale sia il suo problema. T.9. Spawn vessel. Li mettiamo l'interceptor. Sempre con... E l'Od? Sa, GBD è che rincoglionito. Potrebbe essere, no? Questo lo mettiamo qua. In modo che praticamente si guardano tra di loro. Ma non è questo. What? Non è questo. Che cazzo ho caricato? Tu stai qua. Stai qua a guardare. Spawn vessel. Cos'è che ho caricato? Ah, l'A12. Eh, che pirla però. Di nofu. Questo lo mettiamo qua. Un po' più sulla destra. Dovrebbe bastare lì metà pista. Prima è bastata. Ok. Cazzo. Inoltre che rigiassi di qua, si gita la parte opposto. Io non so. Va apposta. A posto, opposto, opposto. Ora, speriamo che non si schiantino tra di loro. Questa è... È una speranza che secondo me sarà... Vabbè, ora facciamo decolora qua. Tanto bene male sempre terreno, eh. A meno che non rileva che è una pista. Però vabbè. Place. Guarda, guarda come magnanimo l'interceptor che dice, vabbè, decollo dall'erba perché sai. Attiva motori. Team A Versus No Eh, ma io non voglio che lui voli. Oddio santo. E come faccio a eliminarlo? Oddio. Allora, aspetta, devo andare... Per il coproveicolo. Poi torniamo di là sugli altri. Che palle. Perché il vessel mover non ti permette di eliminare un vascello che tu hai caricato. Pronostico avviato. Mars, ok, ora uso termini fermi e friendly. D'un minuto dopo. Ma che... Eh, ma ma cà. Non è un termine così brutto. Fai uscire il pilota. Ah, beh, giusto. Però non vole... No, mi sa che il pilota ha anche senso. Dove cazzo? Sarola, sono finiti. Vola. Ok, andiamo. Pronostico avviato. Pronostico? Io non l'ho visto. L'ho visto. E quanti grandi ci sono? Ragazzi, abbiamo toccato... 31 gradi e 9. Fortunatamente ho un ventilatore sulle gambe che punta proprio sulle gambe perché se no stai veramente morto. Computer che sta... Facendo un po' fatica. E' tipo... Vuoi puntare anche tu? No. Io mi astengo da... Da queste porcherie. Da... Da saloon. Allora, motori accesi? Ci siamo? Plim, 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 plam, plam. Io direi di provare a fare... Anzi. Anzi. Fatemi fare una cosa interessante. Salva. Duello... Della... Della... Merte... Del... Gabbianos. Allora. Ehm... Eravamo di qua. I diamo sempre i loro 5 km. Decollate. Decollate. Volate. Wiii. Lui è decollato. Lui non ne vuole sapere? Oh no. Ce l'ha fatta. Ce l'ha fatta. Tipo a Mach 9. Però è decollato. Oh 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 oh. Già spara le contromisure. Eh eh eh. Ah. Oh. Però può ancora pilotare. Tecchicamente. No. Non può più pilotare. Ah ah ah. No. Povero Gimbenia. Li ha fatto a pezzi. C'è qualcosa nell'Interceptor che non abbiamo ancora considerato. Analizziamo l'Interceptor a sto punto. Bruh. Allora. No aspetta. Ma dove cazzo va? Ah ok. Come frenare. Per un atterraggio. Deja vu. Fare uno scontro equo. In che senso? Ah tu dici. Mettiamo via l'Interceptor che è chiaramente il vincitore di qualsiasi combattimento. Per qualche motivo che ancora devo capire. Non so se sono. Se sono tipo gli 8000 lettoni che ha piazzato o che altro. Non lo so. Cioè ha due Gatting. Però non arriva mai a usare il Vulcan. Perché probabilmente il missile che ha funziona meglio di quello che sembra. Qua dentro c'è. Questa qua è una specie di radar. Se ricordo bene. Questa è una passenger door. What? Ah beh c'è dentro le munizioni. Questa cosa qua dovrebbe avere un radar anche suo. Se ricordo bene. No. Ma che cazzo. Gabbiano dice. Ancora Marzo non ha capito che deve cambiare i parametri della mia IA che ho modificato in page. Io in che senso devo cambiare i parametri? In che senso? Da dove? Da dove? Il potere è tutto lì. Limita lette. No. Perché. Oddio. Santissimo. Ci sono i rottami di gabbiano ovunque. E tu però. No. Allora. Tu mi dici. Modifica l'IA. In che senso? Perché capisci che mi rende la vita un po' difficile così. Allora. Quello col nome è più lungo in teoria. Competition. Criteria. No. No. Questo è quello che ho fatto. Ok. Questo è quello che ho fatto. Prima. Dopo. Prima. Dopo. Prima. Dopo. Allora. Appendiamo il prima. Connetto Valentina Kerman. Lancia. Free a letti. Io sono mancato un po'. Il mio aereo è durato a meno di 5 secondi. Matthew. Tu erai il... A12 forse. Ricordo bene. Quello che sembra un... Un Tomcat. Sono tagliato via ma non so tanto. Quale cazzo è il tuo Matthew? XF qualcosa? No. Non so. Forse era quello lì. Eagle. L'Eagle è durato tipo un nanosecondo. Matthew. Letteralmente. Inizia la competizione. Morto. Va. Non c'è più niente. Allora. Adesso che abbiamo? Dobbiamo... Cioè. Andare a intercettare la AI. Dove vado a modificare la AI di questo veicolo? Mail del tuo. Gabbiano. Ci servono informazioni. Dove vado a modificare la AI del tuo aereo? Io leggo anal. Però... Apri la cargo. Apriamola a cargo. Primo step. Questo? Ma perché modifichi la AI? Ma perché? Nessuna ha modificata. Nessuna ha problemi. Tu l'hai modificata. Ti precipita l'aereo. Oh porca. Allora facciamo così. Recupero veicolo. Deve dire a provare... Sì abbiamo provato tutto. Erano cinque. Tre ne ha vinti tutti Interceptor. Adesso potremmo fare delle sfide tra quelli che hanno perso e vedere come se la cavano. Con i cannoni a carrammato. No più che altro c'è qualcosa nel veicolo di Sub-Zero che prevale. Ha una probabilmente precisione... Perché con due missili ti tira giù l'aereo. Quindi ha una precisione e lancio migliore. E si gira più velocemente. Quindi questa è una cosa importante. Allora facciamo una bella cosa strategica. Andiamo ad aprire questo. Salvarlo con D2AE New. Così. Li togliamo queste 8000 ruote di reazione che non servono. Questo lo rimuoviamo. Li mettiamo di nuovo con la stock così. Che è la stessa ma semplicemente senza modifiche. Questa non mi ricordo che è finita. Data Receiver. M1 Abrams. Ok. Mettiamoli qui. Boom. Baby. Dove minchia è finito? Ah. Pilot sarà il computer. Ok. Perfetto. Lo mettiamo così. Pam. Easy. Senza modifiche. Lascia tutto così com'è. Chiudi. E via. Vediamo se così vola. Vai. A quanto pare in BIO vince tutto. Non so perché. Eh. Io l'ho modificata la AI. Eh. Oh. Sembra il minimo. E' il più piccolo di quello di Sub-Zero. Eh sì. Praticamente è un area di combattimento e. Agilità. Cioè. E' quello che serve alla fine. Spostiamo questo avanti. E però poi non decolla. Perché non ha abbastanza. Spazio. Penso. Perché se si schianta qua. Ce la piange ragazzi. Non l'ho modificata. Ho solo cambiato la AI. Cioè. Gli ho rimesso quella standard. Non so quante modifiche c'erano. Non so niente. Quindi. Se non decolla. Perché non ha abbastanza pista. Quello non. Non ci posso fare niente. Non ho fatto modifiche di nessun genere. Spawn Vessel. Prendiamo un mezzo. Non OP. Prendiamo l'Eagle. Dato che ne stavi parlando. Ci mettiamo l'OD. Che ormai è una veterana. Di questa cosa. E. Il fatto che. Partano da metà pista. Potrebbe essere. Una cosa da. Ricordare. La prossima volta. Perché. Se ti serve un'intera pista. Per decollare. Almeno. Per numero. Vabbè. Non è fondamentale. Ma se lo scrivi è meglio. Almeno. Evitiamo di. Di trovarci a fine pista. Senza aver preso il volo. Ecco. Effettivamente qua. Non è che abbia tanta pista a disposizione. Però. Mettiamoli tipo così. Così si. Si passano. Un in fianco all'altro. Accendiamo i motori. Place. Allora. Team A. Versus. Team Gabbiano. Li rimettiamo sempre i loro 5 km di distacco. E. Startiamo la competizione. Ton 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 ton. Ton ton ton. Ton ton ton. Allora. Qua. Vola più velocemente. Ha più grip nell'aria. Ed è. Abbastanza chiaro. Però. Se stalla come l'altra volta. Diventa un problema. Ecco. Però. Diamoli la possibilità. Perché comunque ha quel suo pisellone sotto. Potrebbe essere. Vedi. Non riesce a mirare. E quello è il suo problema. Non riesce a. A mirare nessuno. E quindi deve fare solo le contromisure. E aspettare un missile in faccia. Si sta letteralmente caccando sotto. Raffica ricolpi. Regal. Ed è andato. Allora. L'Eagle. Ehm. Ha prevalso. Ora. Proviamo a fare una cosa. Che disastro. È un aborto sto aereo. Senza offese. Ecco perché ha modificato la I. Sì ma. È l'handling il problema. Capisci Gabbiano. È l'handling. Tu puoi dire mille cose da fare alla I. Però. L'hai visto cosa ha fatto? Con la I di prima. Andava. Sbarcollava un pochino. Però il problema è che lui. Deve avere. Un handling sufficientemente. Rapido. E controllabile. Da permettere di girarsi su. Vedi che. Girava in mirino. Non riusciva perché continuava. A spinnare. E non riusciva a mirare. Quindi. Non è affidabile da questo punto di vista. È un aereo da crociera a questo punto. Cioè non è che puoi. Puoi fare tanto. Allora. Recupro veicolo. Piloto. Eh sì. Ciao. Posso provare. Però non so come funziona il discorso dell'armamento. Non sono in grado di. Non so come fare l'auto. L'auto aim. E poi. Devo anche ricordarmi i tasti per lo shaft. Per tutto quanto. Non lo pulsa. No. Che p... Che bello. Questa cosa. Devo mettere delle rette un po' più grosse davanti. La mia versione del... Che ha perduto la gone by. Sì effettivamente. Allora apri. Questo è quello che ho modificato. Che era un po' più stabile. Ma faticava a decollare. Per qualche motivo. Andiamo a mettere delle rette un po' più ciccine. Ciccio. Che di solito... Viene queste. Voilà. Li togliamo un po' di rollio. L'imbardata. Chiaramente. Che se no impazzisce. Rilasciamo tutti i motori. Lasciamolo così. Ok. Qua dobbiamo... Ecco. Il beccheggio. Magari lo teniamo, no? Rollio. C'è l'imbardata. La togliamo. Va bene. L'imbardata di qua. Questa che cazzo fa? Questa non fa niente. È un alettone. Così. Che non fa nulla. Teoricamente questo... Si fa che toglierlo, va. Tutto peso. Ci sono due motori di troppo qua. Allora. Cambia la AI. Ma no, no, no. Questo qua è quello che ho fatto io. E la AI è uguale a quella che avevi detto prima. Questa non l'avevo modificata. Take off speed. 33 cosa? Metti a secondo. Stage number. Altitudine minima. Mettiamola a 900 metri. Max speed la riduciamo perché non è fondamentale. Non la cambierai, no? No. Mass effect. So cos'è ma non ce l'ho mai giocato. Allora. Steer factor. Max speed. Vabbè, vabbè. L'abbiamo ridotto un pochino perché non vogliamo andare ad arrivare supersonici. Take off speed nel senso che più è alto è... Oh, non lo so. Facciamo 86 così, a cazzo. Chiudiamo. E lanciamo. Non so neanche dov'è il centro di leap. Non so niente. I metri a secondo? Come cazzo fate con la 30 metri a secondo? Cioè non è l'area dei fratelli right. Nel senso che... Non è il mio sub 0 quanto l'ha 12. Dopo proviamo. Tanto bc2 sappiamo chi è. Ok. Ehm... Questo funziona. Forse saranno anche un po' troppo queste qua, eh. Le mettiamo le tipo a 13 gradi. Tac. 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 Move. Lo mettiamo tipo qua. Così. Sperando che... Non vado a schiantarsi contro qualcosa. Proviamo adesso il... Di nuovo l'Eagle. Anzi l'XF01 che è un po' che non lo vediamo. Sempre con l'Od Kerman. Questo lo piantiamo qua così... Per terra. Per non farli incontrare... Evitiamo mille problemi. Lo giriamo dall'altra parte. SS. Per la mia esperienza i migliori per il combattimento sono questi motori qua. Lace. Questo team A. Team B. Vediamo se funziona. Facciamo 5 sempre come solito. Devi dare tempo. Dovrebbe decollare a sto punto. Addirittura frena. Ok. Non lo so. Però è decollato. L'importante è questo. Allora l'XF si sta dando da fare per... Vedi? Sta già mirando. Ha agganciato e ha lanciato il missile. Lui non si è girato. Non si gira. Proprio se ne fotte il cazzo. Gira alla fine. Rip. Non so più che altro fare. Allora. Hai i di questo? Boh. No, no. Fare che... Ah, dici il... Il coso. Boh. Allora, torniamo al lanci... Torniamo al lanca spazioplani. Vediamo. No, no, ma non tu. Stavo orando questo qua. Allora, apri. Togliamo lì proprio la I e gli mettiamo un'altra I, quella standard. Vediamo come si comporta. Perché anche il decollo è strambo. Cioè, dovrebbe decollare in modo abbastanza normale, senza grossi problemi. Cioè, cos'è che non vuol dire niente? Lasciamolo così. Allora, questa forma, ma con la AI stock. Nio, tu. Una cosa sì. Ma perché è 0,1? Cosa vorrebbe dire che era lì? Cioè, che cosa cambia? No, adesso ho messo quello stock, eh. Quindi non ho modificato niente. Quindi dovrebbe essere a 1. Adesso verifichiamo. Facciamo un piccolo check. Dov'è finito? Non c'è. Ah, stage number 1. Ok, adesso è 1. Ok, tecnicamente... Non dovrebbe avere troppi problemi. Questo lo molliamo qua. Spawn vessel. E che sai cos'è? Non si gira per andare a sparare nel micro. Non so perché. Forse perché è poco agile. Andiamo a metterli magari contro A12. Così. Un po' quando lo usiamo anche lui. E la 12 lo piazziamo... Tipo in fondo alla pista di qua. Però sulla strada... Cioè, sull'erba. Dogfight più numeroso? Certamente. Lo facciamo come botto finale. Adesso li spawniamo tutti, li lanciamo all'ammazzarsi. Si capirà un cazzo, come minimo. Però... Si può fare. Plays. Tac. Attiva. Attiva. Allora, tecnicamente non dovremmo... Schiantarci contro la pista, ma... Nel dubbio. Ok. Team 1. Versus. Questo. Combattimento. Lasciamo l'8000. Start competition, vediamo. Con la high stock. Non ho modificato niente. Ok. Stavolta decolla subito. Anche l'altro è decollato praticamente immediatamente. Praticamente immediatamente. Ok. Si devono portare 8 km. So cosa sta facendo. Ah, si. Perché sono decollati uno di fronte all'altro. Quindi si devono passare in fianco. Dov'è? Ah, è là. Questa è la visuale interna del... Del mezzo. Che cazzo succede? Ah, perché forse... Perché hai alzato la cockpit. Oh, si è incazzato, si è incazzato, si è incazzato. Attenzione. Ha visto i missili. Vuole schivarli. Ok. Era schivati così. Oh, cazzo. E niente, c'è un cazzo da fare, raga. Io non so che altro fare. Ah. Brrrr. Brrrr. Stavolta, stavolta... Non so che dirti. Facciamo una cosa. Angra Spazio Prime. Non so che fare. Cioè, hai capito? Adesso prendo il tuo stock. Vi metto stages a 1. No, ma l'avevo fatto prima. Su che cazzo stai dicendo? Aspetta. Apri. Questo è il tuo stock, giusto? Questo non avevo modificato praticamente nulla. È stocchissimo. Li lascia anche tutte le ruote di reazione dentro. Li tolgo questa. E li metto la sua. AI. Quiet. Quindi, a 1. Stage number. Teniamo tutto chiuso. Et voilà. What the fuck? E lo... Lanciamo. A me li ha schivati. Beh, sì. Ha fatto la mosso dello struzzo. Si è infilato... Con la testa nel terreno. Per un pelo. Per un pelo. Per un pelo. Le ruote di reazione. Possiamo farlo, sì. Che cosa? Del... Dello stage a 1? Allora, facciamo un piccolo... Magheggio per le ruote. Oddio, santo. Solo pilota. Solo pilota. Solo pilota. Solo pilota. Solo pilota. Solo pilota. E solo pilota. Ok, dovrebbe essere tutto apposto. Chiudiamo tutto. Il baraccopolo. Tac. I motori si sono accesi. Spawn vessel. Diamo... Un'altra spolverata all'XF01. Sempre con l'OD che ormai è una veterana... Cazzotissima. Perché dici che... Conflitta, no? Con i comandi del... Della AI? Allora, attiva. Attiva. Place. Versus lo accendiamo. SS. Start competition. E cominciamo a vedere cosa succede. XF01 aveva qualche problema con le ruote. Infatti ho dovuto spostare dietro perché sennò... Col cazzo che... Che decollava. Ciao! Allora. Facciamo qualche screenshot. Per... Per un'eventuale anteprima. Oddio. Oddio. Che cazzo fa? Ma me lo spiegate cosa sta facendo? Non lo sto toccando, eh. Sì, sì. Adesso lo... Lo carichiamo. Non riesci neanche a allontanarsi... Questa è la e-stock. Non ho modificato niente. Facciamo così. Mi allontano io manualmente. E perché va già troppo veloce così. Ne ha quattro standard. Figurati cosa se ne fa dei post bruciatori. Perché con quattro va a Mac 1. Tranquillo. Adesso li ho accesi io. No, erano già accesi post. Solo che non si vedeva. Non si vedeva. Pilota automatico. Ecco. Uii! Dai, lo piloto io. Lasciami in pace Non riesco a fargli prendere quota Sto prendendo pezzi Vabbè dai abbiamo capito Muori Muori Valentina Kerman Non si può Non si può fare Gabbiano lavoro su un altro mezzo Più semplice Più facile Tanto sono competizioni Si possono fare molto facilmente Come visto Lo prendiamo Lo facciamo decollare E poi si spanto Adesso Vediamo se c'è uno dei miei mezzi stupidi Che ho fatto Qualche aereo da competizione O qualcosa Magari c'è qualcosa Potrei usarlo per Per qualche combattimento No Non c'è Allora facciamo un aero proprio al volissimo Proprio stupidissimo C'è una cockpit standard E così ve lo scaglio contro Vediamo cosa succede Allora Quelli fighe Ma questo è un altro salvataggio Non sono qua Questa cosa Se farei forse In aerodynamic Radar Scan Locked Argo 120 gradi Ok Quindi questo qua va bene Mi mettiamo una tank Molto Molto blanda Molto easy Se la trovo Ti prendiamo questa qua così Toniamo l'ossidante che non serve Ricambiamo l'appearance Motore Molto facilmente Andiamo sul Sul Panther Questo qua Però l'aereo deve essere un po' più lungo Altrimenti Andiamo molto male Forse così è anche troppo lungo Ma Fotte cazzi Allora facciamo così La La tank principale Facciamo questa roba qua Toniamo l'ossidante Il centrale Rimettiamo Questo qua Lo riduciamo un pochino Anche da questa parte Doppio Panther Ali Allora Alette Facciamo una roba del genere Con Una roba del genere E poi ci serve una roba del genere Però non ricordo come cacchio si faceva girarla Questa così No Diciamo che usiamo Queste qua Così Ora Dobbiamo mettere Queste qua Può essere capiato Gli altri 5 minuti che hai caricato Aspetta un attimo Andrò ad affrontare tutta la vita Eh sì Non fa malissimo Solo il rischiante è sempre Ed è incontrollabile Beh C'è un problema Poi Non troppo Qua dietro Perché se no Viene fuori un macello Il controllo Se collaborasse A meno Che abba Nel piazzare le cose E poi Questo qua Ok Ora tutto questo Lo devo spostarlo un po' più indietro Perché sicuramente Il centro di massa Sarà sputtanato Voilà Flappini Flappini dietro C'era dei flappini abbastanza grossi C'è una roba molto semplice Dritti Nei frappini anche qua Per quelli laterali Potrei usare Una roba molto Molto easy Tipo questa qua E poi attaccarli Le alette Oppure fare lo sborone E fare questa roba qua Dare a prendere Innanzitutto Aia Due di queste I attuali sono un po' più grandi Come si chiama il tuo modello Il mio Non lo so ancora Decideremo Cobra Vediamo se vola innanzitutto Sto vedendo come avevo in mente No non mi piace Allora spostiamo un po' più avanti Perché poi comunque avremo Una superficiale Non indifferente dietro Ok Questi potete Tranquillamente E metterli così Pregarmene Totalmente Sì dai va bene E ci mettiamo Il flappino che ho messo prima Che ho cancellato Che ha questo Così Ok Ora qua per precauzione Solo per precauzione Ci andrei a mettere Delle trappine piccole Queste qua Ok Due motori Ci servono delle prese d'aria Quindi anche questa è una cosa Che non bisogna dimenticare Le prese d'aria Potremmo fare una cosa molto semplice Andando a piazzare Andando a piazzare Non mi ricordo se ne basta uno O se ne sono due Questo è un dilemma Forse una è sufficiente Forse Chiamo le due nel dubbio Ruote Questa cosa deve atterrare Usiamo con le stock Prima di fare i casini Le piazziamo così Centro di masse Qua Quindi possiamo anche mettere 9 Però poi si schiantano Sempre le stesse ruote E anche davanti Ok Questo è senza sterzo Freni un po' più alti Questi freni Zero Ok A parato pronostico Chi vincerà è Cobra vs Interceptor Non lo so Sto ripetendo che Il MPC andava molto più lento Durante il combattimento Questo potrebbe significare Che aveva più tempo Di processare Non lo so Non lo so Vediamo vediamo Allora Ci servono i side winger Adesso Un po' di armi Side winger Mettiamo uno Quanti erano? Erano sei vero? Non mi ricordo Quanti erano Sei è una È una vulcan Sei è una vulcan Però questi qua Poi mi sa che si vanno A schiantare Li mettiamo qua Ci se ne frega Sei è una vulcan Ok Penso Ci sia anche una vulcan Dov'è? Dov'è finita? Qua Hidden Una dovrebbe essere Sufficiente Ok Ora li mettiamo Weapon Weapon manager Che non so Dove è finito Data receiver Non c'è bisogno Perché non abbiamo Il Il radar a terra E li mettiamo sopra Il Pilot Giusto per Io vi direi anche Di mettere Dei nero freni Per aiutarlo Un attimo Quindi ogni tanto La i vuole frenare Quindi diamogli La possibilità Di frenare Impostiamo I puntoni Mi vorrebbe essere Opposto Adesso Togliamo Rollio E beccheggio Togliamo l'imbardata E rollio Non dovrebbe essere Necessario Qui diamo solo Il Beccheggio Qui diamo Beccheggio Rollio Ma senza Imbardata Qui dobbiamo Ridurlo Un Po Diciamo Solo Anzi Beccheggio Rollio Cobra Salo Vediamo se Se funziona Ah le munizioni Do metto le munizioni Cazzo Dimenticavo Non cobro Qualcosa di più tamale Tipo watermelon Bananas Bananas Mk1 Mk1 Eccomi qua Allora Diciamo come stare qua Qualcuno ha votato Per cambiare Ok Facciamo un test Di questo affare Che magari Non vola neanche Ah le munizioni Non ho messo Cazzo Vabbè Sono un test Di volo Bananas Ultimo test Ragazzi Cioè ultimo fight Perché non Fa troppo caldo Quei tardi Allora Ti resti attiva Cannon Modalità Ok Dobbiamo sistemare Un paio di settaggi Ci vuole un più ali Mi ha dato Un'impennata brutale Proprio per vedere Come rendeva Mettere conto Sì 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 Sto solo testando Il volo Allora L'impennata brutale Non va bene Perché dobbiamo mettere Più ali Più ali Più ali Forse un po' troppo lungo Come mezzo Effettivamente Sì 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 Beh allora Proporzioni ce le ha Serve un pochino Più di Cos'è che devo modificare Allora Queste possiamo spezzare Un po' di qua Vediamo Centro di massa E questo qua Così Ok Forse questo È un po' troppo Questo possiamo Ridurlo un attimo Ok Ah sì Già che ci sono Le contromisure Sì Adesso non mi ricordo Quale devo mettere Per Per la Vulcan Se bastano Se bastano Con i 50 Al calibro 50 Penso che sì Non le compenitoro Perché È 30 È 30 Per la Vulcan Scusa Non è mica calibro 50 30 30 Mettiamo le 30 Mi fido Allora Questi li facciamo qua E questi li imponiamo Dentro qua Contromisure Flare dispenser Boh Mettiamole così Mettiamo 2 Shuff dispenser A caso Senza una logica A me sembravano le 50 Mi sembravano 20% o 2 Ma addirittura 20 20 sono Minnaggia Fate mettere i regoli sbagliati 20 Ok Vediamo Lift point Un po' più indietro Ma Vediamo È un po' troppo lungo Forse Un po' e mezzo Boh Vi ho metto tutti e due Nel dubbio Solo 20 La fortuna Si Ah è vero che non ho impostato Gruppi Devo anche diminuire un po' il carburante E' un po' più indietro E' un po' più indietro E' un po' più indietro Non lo so' più indietro Non lo so' più indietro E' un po' più indietro E' un po' più indietro E' un po' più indietro Per saltare il proditore Penna troppo. Facciamo così, proviamolo. Proviamo, vediamo cosa fa. Cosa fa l'AI. Con un po' più di tempo facevo un mezzo estremamente pilotabile. Allora. Move. Questo lo piazziamo qua. Ok, lasciavo così. Ora, spawniamo l'interceptor con LOD. E vediamo. Magari il mio non spara neanche onestamente, quindi non so cosa potrà succedere. Allora, questo team A, team B. Team B. Co' sta facendo? Buono, buono, buono. Allora, interceptor. C'è qualcosa che è modificato nella AI che ti fa sparare prima. ma... Oh. si è autoristutto per non mostrare il suo segreto non modificata va bene va bene tutte le tue banane tornerò con un mezzo molto più performante il mio non è manovrabile anzi non è abbastanza manovrabile in realtà è troppo lungo a far avere molto più semplice è più facile in realtà tipo faccio un esempio aereo banale anzi no ancora più banale tutto stock però radar mi serve hai detto ground radar no prendi un aero banalissimo come questo qua con dentro un motore molto semplice delle ali a delta aereo aereo tutti questi modi aereo aereo davanti li stiamo per forza l'elettro perché sennò non riuscire a fare un cazzo così dove sono con le frippine e dietro riserva un pindone gigante perché sennò l'imbardata non si gestisce state facendo le super scommessione grazie ok armi 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 vulcan sightwinder c'erano altri sightwinder non mi ricordo come erano ok inizioni grazie 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 Bananas Mini Ah, le controvisure Chiara, guarda, è proprio pioggia di banane Ultimo Sto preparando, diciamo, 33 gradi Definitivo Vediamo come vola Ah, figa di manca l'aria, vero? Grazie a tutti Grazie a tutti È l'ultima, è l'ultima scommessa che potete fare Tutti contro tutti la prossima live Quindi avete tempo per sistemare i vostri mezzi Eventualmente caricarli ancora Ricordate quando mettete il nome dell'aereo Anche chi l'ha fatto Così faccio prima trovarli Oh, adesso ci capiamo Decisamente Ok, possiamo provare Voto da zero Ad architettonico per i cut Adesso non lo posso fare Perché dovrei guardare tutti quanti Corrigabia non è brutto esteticamente Potrebbe migliorare Sendo un po' più slanciato Ma diventa troppo un aereo pesante Sembra Sembra proprio da combattimento Esteticamente non ne ho visto uno che mi ha colpito In modo particolare Il mini Tomcat è carino Si può migliorare Sembra proprio un mini Tomcat Il più compresso Allora, posizionamolo qua Spall Per certo Ma non lo so Interceptor ha Wing Abused Dimentico niente Vai Allora, posizioniamo Grazie a tutti No, ma dove è arrivato il missile? Dov'è? Ah, è di là Ok, ok E niente Più alette uguale vincere Alla fine questo è il concetto Sei ricco, bravo Però è riuscito a sparargli un missile Questo è buono Dai Diciamo, ha fatto un Un'aletta abuse Quindi più in manovrabilità E va bene Allora, facciamo così Screen di questo qua Perché infatti Tenevo l'occhiata sul suo, no? Appena è fatto il via Si è girato subito E quindi ha potuto E quindi ha potuto mandare subito il missile Quindi penso che sia quella La parte differente Eh, ma non esageriamo con l'alette Poi bisognerà impostare un Un criterio anche più alto Suggettivo Per determinare quando Le lette sono troppe Ok Bene Per stasera direi che ci siamo Ho sudato abbastanza Ehm Complimenti a SubZero Per la sua vittoria Applausi Per la parola Per se che sono Le toalette Sono di più le toalette Quindi c'è molto più contato del mezzo Che teoricamente Dovrebbe sradicarsi Forse mettendo Eh I limiti di G Ai Kerbal Ci sembra dei problemi Però io credo che Probabilmente la AI Riuscirebbe a contare lo stesso il mezzo Metti più difficoltà Sì Potrò mettere Tenei regole di Resistenza Di Di costruzione Un po' più ferre Perché questo era il primo Chiaramente Ha vinto lui Perché ha fatto il mezzo Più manovrabile E questo è Degno di nota Però Sono veramente Tante alette Come no Ha provato Conto a 12 Mi pare Vibrare Quindi non si rovina Dai Io Vi abbandono Perché è tardissimo Come ho detto Ho 33 gradi in camera E dei tardi La prossima live Facciamo Facciamo altre sfide Costruite dei mezzi Non Abusate troppo Con le alette Quindi Sub-Zero Recreare un aereo Che non abbia Un wing abuse Quindi se vuoi partecipare Non si possono più usare I vecchi aerei Deve costruirne I nuovi E niente Buonanotte a tutti quanti E Li ho provati tutti ieri Buonanotte a tutti quanti E ci vediamo Alla prossima Quindi Challenge 4 Finita qui Non hai provato l'ultima Sì ma penso che sia inutile Con tutte quelle alette Praticamente No Allora a 12 Versus Interceptor Non c'è molto Possiamo farlo Ma Non penso che cambierà Più di tanto A 12 Velocissimo E Non cambiano Fai una versione Nuova Cioè non è che Non potete usare il vostro Lo fate però Dovete modificarlo Ok Poi Meglio se È un po' differente L'aereo Prova a riprogettarlo Per dire Cambia gli ali Togli i motori Alleggerisci Lo rendilo super Manovrabile Ma manovrabile Nel senso che Fai una cabrata Violenta Lasci La manetta Rimane lì Lasci la Cloche E rimane lì Non che impazzisce E spina Allora Questo lo spostiamo E lo mettiamo E lo mettiamo Qua Quando torto Se io sto via Una decina di giorni Ultima sfida Allora Questo è il team B Quello team A Start È un po' differente Guardate che già arrivano i missili Uh sta rischiando E fia di corti Oh sento più l'audio Finito E ha vinto un po' l'interceptor Non c'è niente da fare Bene